Veniamo alla sentenza della Cassazione secondo cui le coppie che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata e in questo caso si tratta di una coppia omosessuale non possono ottenere in Italia la trascrizione all'anagrafe. Leonardo Possati. La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite rigetta la richiesta presentata da parte di una coppia omosessuale di trascrizione nei registri dello Stato civile italiano di un provvedimento di un giudice canadese che accertava il rapporto di figliazione tra un minore nato all'estero da maternità surrogata e il componente della coppia che non aveva con il piccolo alcun rapporto biologico. I giudici ribadiscono così il divieto di ricorrere all'utero in affitto pratica che offende la dignità della donna e che mina le relazioni umane ma non solo. Questa sentenza stabilisce la prevalenza dei principi dell'ordinamento italiano in tema di figliazione e dignità della persona su tutti gli altri ordinamenti che vanno in direzione opposta. Con cautela invece, sottolinea il professor Alberto Gambino, presidente di Scienze Vita va considerato il riferimento all'adozione in casi particolari. La stessa decisione ha affermato che la persona che non è in questo caso padre biologico perché è diventato tale solo con l'utero in affitto potrà eventualmente esperire un'azione per l'adozione in casi particolari. Questo è un tema particolarmente delicato perché occorre che non dischiuda il grande tema della stepchild adoption che invece il legislatore italiano aveva rifiutato.